Pelletto, Sergio Pelletto l'era un vigliac d'un assassino, d'un boia, d'un birichin. L'era proprio il cielo. Nel lavoro l'era un disonesto. L'era cattivo con tutto. Da bobbin, l'aveva 9 anni e fermeva il dono per la strada e diceva Scusa signora, la tira sulla sutenna che vuoi vedere la bzezza. Una volta e fermeva la venabia, la puretta, che la scapeva dalla cisa dopo la funzione delle 18. Una fermezza e leggeva. Scusa signora, se va bene, se è burdata, la tira sulla sutenna che vuoi vedere la bzezza. Ma mamma, è mia signora in bel bel, lei ci ha fatto un sbalvino e la caschetta come un sacco di vuoto. L'ho facendo una piga, ho tirato sulla sutenna e guardato. Poi dice, ma mamma è come la sarduzza. Un'altra volta l'hanno detto da una puttana, la Zaira. Scusa, la puoi tirare sulla sutenna che vuoi vedere la bzezza. Ma subito, professionale la tirare sulla sutenna. L'ho guardato, guardato. Allora buttare soffasami. Scusa, complimenti, buonasera. L'ho detto via senza pochè. L'ho l'ho fatta così. Però neanche a Ciappelletto usci innamorato. Usci innamorato di lei, bella pure in una burletina. Buona, buona. La Ciappelletto uscireva sempre a Ciappelletto, Ciappelletto qua, Ciappelletto la. Allora lo convinse a sposarla. E decise. Il parroco ha fatto. Sir Ciappelletto. A Sauvignè. Perché eravamo a Savignano eh. Cia cisa a Sauvignè. Ciappelletto. A Savignè. 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 A Savignè, insomma, mi dico d'accordo. Allora. A Savignè. Allora, Sir Ciappelletto, volete voi spoggiare la qui presente ebbe? No, stasera. non si. Ebe, volete voi sposare il qui presente Ciappelletto? Si, si, si. Ripeto, e voi Ciappelletto volete qui sposare la signorina Ebe? No. E perché? Ho idea che un pisciomano. No, una vera e niente, facete Ebe? Una vera e niente, ma io so che una vera, una vera e niente, dice che si è partito, una vera, una vera, la sbittata piano, la sbottata sotto l'alter, la restata le partite, poi la portata in tlacca di mano e lei dopo una settimana la muretta. L'era cattivo, l'era fatta che si è, l'era cattivo, una vera a cui piaceva io, però anche Ciappelletto è che non c'è l'avcciaia e la malattia. E quindi è stasera per morire quando c'è l'era cattivo. E ci ha messo un padre domenicano, tale Getuglio da Gambettole, che era in predicazione a Savignano, non dico più Savignano, che era in predicazione a Savignano, l'ho l'han detto, a vli con un fai, a vli con un seno. Allora, via, dammi. Allora, giù, 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 giù. Quando c'era bambino, oggi c'ho bevito due volte alla mia mamma. Sì, che sento qua. Non ti ho detto oggi, un e niente, via, dai, andiamo avrete. Un Dè, un puretto, mi ha chiesto una lemosina, ma io ho detto tipo io che avevo, eccetto uno scudo. Ma non sono che sento, ti ho detto tutto, anche se hai tenuto uno scudo. E con Aldoni? Eh? La fornicazione. Il sceso. Aldoni? Beh, ho conosciuto la madunina sempre. E la mia mamma, Aldoni? Ma mamma, mamma, c'è un scegno. Grazie, signore, che oggi mi avete fatto conoscere un nuovo santo. Facci presto, amore. Grazie, signore, usbite ti snotte. Grazie. Io non lo meritavo. Dessimo la soluzione che vaga. Grazie, signore. Dessimo la soluzione che vaga. Grazie, grazie, grazie. A farò tutto quel cosa a te. Dessimo la soluzione che vaga, vaga, vaga. Oh, ho capito? Ecco la soluzione che vaga. E i muretti. Padre Getuglio del Gambetto è scappato da qua. A Ciappelletto. L'ha detto a dire tutti in zia. Ho conosciuto un santo, ho conosciuto un santo. C'è Ciappelletto tutta la zetta. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. Ma tu che sai? Tu che sai? È dato male? Ma non c'è più religione se Ciappelletto l'ha un santo. E dei dei funerelli nella chiesa parrocchiale di Savignano aveva fatto erigere un catafalco con in cima Ciappelletto con le mani incrociate sul petto. Padre Getuglio del Gambetto è stasera per cominciare la predica. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. A Ciappelletto. E proprio in che momento è tirato un gran terremoto. Il crocifisso di bronzo che stava sull'altare e che ha schiazzato, tu capetti in pino, un fisso secco! E così, intombato si trovato là. Qui era una gran nebbia. Dignitente ti passava un e poi passava un etto, poi passava due, scusino, e facendo, duca sabbia quello, duca sabbia, dite si pilla duca sabbia, passiamo i tuoi purgatori, ah, dite, non potevo che essere un purgatorio, peccatori come sono, ah, ho capito, arrivederci, duca andè, fai un zio, passai a te, andate via, mentre li vedeva andar via senti provenire dalla nebbia una risata sguaiata, ah, 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 ma chi è che è, ah, 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 E poi le disse, ma no, no, ma come no, avevo un cemè, quella è stata bella, ma c'è pensiero, ma io c'è pensiero, c'è, per buzio, per buzio, non so divertirlo, allora perché non uscite all'inferno? Perché, domine Dio, che da la sua e guarda tutti, l'aveste in calore la mia confessione, uscite divertite, ce l'ha detto, ma no, l'avrete da andare all'inferno, ma mandammi te purgatori. A tale notizia, padre Getuglio da Gambetta, l'arvanzetta a boccaverta come un quajon, e come un quajon a boccaverta è resta per omnia secola seculosa. Grazie, 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 vi ringrazio molto, vi ringrazio, alla prossima volta, e viva il geletto, grazie.